foto, cd, un sacco di cose. Senti, parmi un po' dire, perché ti piace così tanto? Perché, innanzitutto fisicamente e diversicamente, poi mi piacciono le canzoni molto orecchiabili, molto stupende. Stupende, insomma un attivo per di Britney, eh? Stupende. Un'altra cosa, senti, tu parli inglese? Eh, non bene. Eh, ma lei canta in inglese, come fai a capire le canzoni? Eh, beh, le imparo furia di sentirle, fare i testi. Ah, così, orecchiabile, eccetera. Io so che qualche giorno fa è stato il tuo compleanno, vero? Hai compiuto 18 anni, quindi adesso sei maggiore. Libero e indipendente. Libero e indipendente. Senti, io ti voglio fare un regalo, Carramba ti vuole fare un regalo. Io credo che se anche con un po' di ritardo questo regalo sarà graditissimo. Eh? Ok. Vuoi venire con me? Certo. Ce lo portiamo via? Ce lo portiamo via per il momento. Ma guardi che è per una cosa bella, professoressa, eh? Lo portiamo via. Carramba è così. Grazie a tutti. Ciao. Oh, eccoci qua. Hai visto? Da Torre del Greco a Monte Carlo. Senti, sai che cos'è questo? Un grande albergo, penso. Eh, ed è l'albergo dove alloggia Britney Spears. E noi siamo sulle sue tracce. Andiamo? Ok, andiamo. Andiamo. Bello, eh? Senti, Marco, c'è un piccolo problema, però. E lei oggi, Britney, ha chiesto di annullare tutti gli incontri con la stampa, con i giornalisti, con chiunque. No. No. Dai, sai come sono questi artisti? Cambiano un po' idea, così. E quindi non vuole incontrare nessuno. No. Però, però non ti preoccupare, mica noi ci fermiamo davanti a queste difficoltà. Sai che cosa facciamo? Adesso noi, dato che io qui ho delle conoscenze amiche da ridere, ti vestiamo da cameriere. E tu le servirai la prima colazione. Ok. Lei ha chiesto di farla in terrazza e sarai tu a portaglio. Però non devi dire che sei un fan, eh? Chi sei tu? Un cameriere. Bravo, andiamo. Oh, ma stai benissimo, sembri proprio vero. Lei fuori dalla terrazza che aspetta la colazione. Gliela servi tu e così la incontri. Tanto non ti devi preoccupare perché con questa... In questa auricolare riuscirai a sentire me perché sono sempre in collegamento con te, va bene? Ok. Mi raccomando, non ti da dire. Tu chi sei? Il cameriere. Vai! Buongiorno. Buongiorno. Yay! Buongiorno. Buongiorno. Grazie mille. Where are you from? Eh, Italia. Oh, really? In Italia. Can you sing me a song from your country? From your town? Can you? Oh, mi senti? Can you sing me a song from your town? Yeah. Canta. Eh, Vipi, one more time? No, una canzone tua. Una canzone italiana. Sì, sì. Oh, sola mia, stai fru'n da te. Oh, sola mia, stai fru'n da te. Oh, sola mia, stai fru'n da te. Everybody knows that I like tea. Sì. Yeah, can you go get me some tea, please? Yeah. Vieni, vieni, vieni qua, vieni, 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 digli un momento, digli un momento, digli un momento, please. Un momento, please. Come va? Bene, bene. Tutto a posto? Sì, sì. Come ti sembra a lei? Stupendo, guarda, stupendo. Ah, sì? Troppo bello, non troppo. Come è vestita? Perché io non la vedo, non so. Un abito rosa, bellissimo. Sì. Molto scollato, proprio bello, guarda, bellissimo. Eh? Bellissimo, vuole saltarla addosso? No, oh, 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 no, come vuole saltarla addosso? Stai calmo. Stai comportando bene. Bravo. Udakti? Um, yes, please. Um, there we go. Thank you. Forse vuole cantare un'altra volta? Chiedigli se vuole cantare, vuole ascoltare un'altra canzone. singa, napoletan singa. Yeah, I'd love to sing. Regatta, va. Chi è? Well, you can do my flower over there, that pink flower, right there. No, right over there. Sit over there. Oh, like that, 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 right there. Qualche è quello che ti dici? No, that pink flower, right there. No, right there, right there. Oh, over there. Oh, there. Oh, there. Ok. It broke. Why did it break? L'hai rotto? Dice che l'hai rotto. L'hai fatta arrabbiare? Gli hai rotto il fiore? Era già rotto. Come era già rotto? Era già rotto il fiore. Ma non l'hai fatta arrabbiare questa? Non è possibile. Mannaggia. Ma che è successo? Mi racconti, l'hai fatta arrabbiare. Che è successo? Non si racconta, io non ti ho visto. Ma scappava. E il fiore, com'è stata sta cosa del fiore? Il fiore era già spezzato. Eh. Comunque l'hai fatta. Lei mi ha detto di prenderlo. Io l'ho preso, ma era già spezzato. Ma senti una cosa, ma nonostante si sia arrabbiata così, a te piace ancora? Sì, sì, guarda. Ah, ti piace ancora? Non so come sono svenuta. Nonostante che ci ha avuto un po' la giornata storta, l'una storta con te. Perché secondo me, alle volte, no, la prima impressione verso le persone è pure sbagliata. Magari, è giusto? Sì, sì, è vero. Magari, a rincontrarle, a riconoscerle una seconda volta, cambia. Cambia. Caramba, che sorpresa, Britney Spears! Ma il tuo voce è molto, molto buono. Oh, grazie. Grazie per cantare per me. No, grazie.